Allora, andiamo alla partita Voglio giocare Ecco qua, giochiamo fuori casa Noi occupiamo la sedicesima posizione Purtroppo Troina a quindicesima posizione Quindi era la nostra portata Vediamo Si gioca per salvarsi Ma l'andata non avevamo perso Non me lo ricordo Però non sta andando bene manco il Troina Quindi speriamo di avere più fortuna noi oggi Allora, la formazione Si, e no C'è Stefanetto in campo Il capitano è C'è Albi che è vicecapitano in campo Sei in panchina però Nel caso entri Giochi tu Ho cambiato la formazione Giustamente Non è quella difensiva Perché qui dobbiamo cercare di fare qualcosa Quindi abbiamo i due trequartisti Aulina a destra Albi a sinistra Che è anche vicecapitano Stavolta Stefanetto scende in campo Come attaccante Uomo d'aria I tre centrocampisti I tre centrocampisti Chiappetta Jack Crick e Gustavo Latopa E poi abbiamo Oswaldapanda a sinistra Difendere I due difensori centrali Ingoia e Dalabene E finalmente Possiamo utilizzare Miticaccio Per la prima volta Nel ruolo di difensore Destro Perché può occupare Vari ruoli Abbiamo Gioppia Sistemato Il ruolo di Miticaccio Perché prima era Trequartista centrale Ma non lo utilizziamo mai Perché i moduli Che usiamo Non richiedono Un TC Quindi Gli abbiamo trovato posto qui Ma può giocare anche In altri ruoli Adesso Servo è qua Quindi difensore Destro Miticaccio Vediamo come va E poi vabbè In porta Moreno In panchina Abbiamo appunto Giopì E vediamo un po' Grande Puffo Busco Poderac Brixia Felice Cipolla Carletto Pirletto Tony Denuzzo E appunto Giopì Questi sono i panchinari Cominciamo Gli devo dire Allora Confermiamo la formazione Gli devo dire Al solito Di tenere d'occhio Qualche avversario Adesso lo faccio E Miticaccio Debutta Finalmente Sì Infatti Almeno riusciamo A farlo giocare Se no Era un po' Non usato Perché Non avendo Un trequartista centrale Da utilizzare Con questi moduli Era un po' Sprecato Allora Dov'è? Qua su tattiche Avversario Vediamo di Dirgli Due cosine Qua L'attaccante Si chiama Mustacciolo Del Troina Del Troina Allora Facciamo Marcatura Stretta E gli diciamo Di farlo giocare Sul piede Debole Poi abbiamo Anche qui Hanno i trequartisti Vedi i trequartisti Li teniamo d'occhio Tutte e due Quindi Pressing Uno si chiama Francesco Palermo L'altro si chiama Lautaro Fernandez Marcatura Stretta A questo Fernandez Vediamo Hanno due Mediani Che ci fanno Con due Mediani Diciamo Di fare Pressing Anche sul Terzino Perché probabilmente Scenderanno Ok Vediamo Come va Così Indicazioni Squadra Torniamo Che parliamo La squadra Prima Prima Della partita In modo Appassionato Gli diciamo Mi aspetto Che vinciate Questa partita Interrompendo Il brutto Andamento Dobbiamo Vincere Non ci so Scuse Ci servono I punti Questa è una partita Che possiamo Gestire Vediamo Che succede Oh Piove Si gioca Sotto La pioggia Ah Stefanetto Mi ha Bannato Il nome Del Cugino Di Us Di Sardium Us 69 Non posso Dirlo Meno male Che non sei in campo Se no Era dura Meno male Moreno L'ha preso Stavo dicendo Che al momento Stiamo subendo Iniziamo bene Positiva Per ora Mentalità Positiva Che è successo No Ingoia Raga Ha fatto fallo In aria In rigore Purtroppo hanno segnato 1-0 Per il Troina Non inizia affatto bene Sta partita Ingoia Ha fatto brutto fallo In aria Dalla bene Per Ingoia Vediamo Gustavo Latopa Recupera il pallone Per Chiappetta Chiappetta Allarga Per Miticaccio Vediamo Se fa un buon Cross In aria No Per Gustavo Latopa Ancora Miticaccio Gustavo Latopa Jack Crick La mette in aria Vediamo Albi Ci arriva Ah Attenzione Però Albi Ci arriva Ma lascia la palla Lì Rimessa Ingoia Osvalda Panda Chiappetta Qualcuno Però No Non si riesce A dare un pallone In aria Aulin Vediamo Se si inventa qualcosa Gustavo Latopa Jack Chiappetta Ci prova Peccato Fuori Sono andata a prendere L'ombrello Che piove Eh ci ha provato Stefanetto Aulin Ridalla Stefanetto Ridalla Stefanetto Perché non l'hai data Stefanetto Stefano perché non l'hai data No Aulin La doveva dare a Stefanetto Che provava a tirare in porta Invece ci ha provato da solo Ingoia Niente Non riesce a recuperare Lissa Ingoia Ha fatto fallo in aria E abbiamo subito il rigore Perdiamo 1-0 Non avrai voglia Siamo già sotto di un gol Mi ho staccato un ala al fondo Cotto eh Cioè lo spiedo Ebbene Ma Aulin ha fatto gioco personale Doveva darla prima Mannaggia Ho capito Non è che la dai subito Lancio destro Fernandez Fuori dal ring Fuori dal ring Attenzione Togliamo questa palla Su Non riesce a saltare gli ostacoli Per ora fa possesso palla Troina Vediamo se riusciamo a rubare palla De Santis Ma noi siamo quelli verdi e quelli viola Quelli verdi Ah per cazzo Verdi e rosa Vedi che c'è il pantaloncino rosa L'inguardabile Ma ti caccio La spazza via Ciao Stefanetto Vado un po' su Minecraft Ah ok Ti facciamo sapere Se segni Vediamo La lancia Giustamente a quello del troina Perché gli piace di più il colore Il Palermo avanza La mette in mezzo Ah Il Palermo avanza Non vorrei dirtelo Ma non è il Palermo No il giocatore si chiama Palermo Cosa Sì sì E gioca nel L'altro si chiama Mustacciolo Mustacciolo Poi hanno Fernandez E non me li ricordo tutti adesso Vabbè finché Fernandez ma De Santis Vedi Palermo Che recupero Aulina recupera Dai che Aulina aveva recuperato la palla Facci vedere Facci vedere Vi ti caccio Dai Per favore Jack la recupera Chiappetta Eh dai Sai che mi viene fuori soltanto un dolce Se scrivo Mustacciolo Ah Eh non lo so Magari lo Esiste Come d'oggi Sì Calabrese Buono Sembra anche buono Eh Giocatore Giocatore Beh Effettivamente qua Vincenzo si chiama Forse Calcio d'angolo per il Troina Oh dobbiamo Fare qualcosa Adesso parliamo con la squadra Indicazioni squadra Indicazioni squadra Dobbiamo Giocate No aspetta Non queste Dov'è il cosino In realtà esiste anche il bus Infatti vedo che vengono fuori di ogni Vediamo Incoraggiamoli Qua c'è bisogno Vai Che peccato Ce l'hai mangiato Dai Non possiamo perdere Ingoia Chiappetta Gustavo la torpa Eh Allunga per Stefanetto Che è successo Era fuori gioco Stefanetto Ma dai Gustavo la torpa Dai 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 Forse andiamo Per Aulin Aulin per favore Miticaccio Un cross Calcio d'angolo per noi Uè Arcibaldo Un fallegname Bentornato Aia Che è successo Che ha fatto fallo Forse Stefanetto No aspetta Abbattiamo noi la punizione Gol Ingoia Ingoia Ha fatto gol Un goia gol Beh meglio così dai Ha fatto il fallo da rigore Si è riscattato con questo gol Vai 1-1 Ti saluto a Aller Italia Allerit Allerit Ciao Sono qui grazie al video di Russian Fishing su YouTube Bella guida Ah grazie Aller Eh si è un bellissimo gioco quello Un bel simulatore di pesca Guardalo miti come gioca Si infatti Gio Non è male Come terzino Si lisa si è fatta male Come terzino Non sta giocando male Sta aiutando un bel po' Comunque Comunque Arcibaldo Il falegname Ha scritto che in realtà Esiste anche il mustacciuolo Lo so L'ho letto anche prima Si si infatti ha guardato su Google E' buono Anch'io No tu infatti dicevo Che hai guardato su Google Lui penso che lo sappia Allora Mamma mia Però guarda qua Abbiamo Albi ammonito Jack ammonito E dalla bene ammonito E comunque tutte persone normali Nervoso Apprensivo Apprensivo Esatto Si Io chi sono? Come chi sei? Io svalda panni Cioè no Come sono? Apprensiva Apprensiva Mi sembra giusto Io volevo essere aggressiva Poi magari Sostituiamo qualcuno E Albi non è Non gioca benissimo Povereno Eh lo so Però non gioca benissimo Ed è pure ammonito Eh Albi ha fatto bene Lui l'ha guardato male Non è proprio in forma Quello che posso fare E mettere Carletto Pirletto A sinistra Sì per il momento Possiamo fare così Eh a sinistra lui ci può stare Dai Proviamo Carletto Pirletto Vediamo come fu Nonzia Eh lo facciamo giocare Nel suo ruolo Che è un'ala invertita Di attacco Perché bisogna che Se si riesce Dobbiamo vincere Sta Sta partita Aia Indicazioni squadra Diciamogli quindi Sempre da appassionata Eh Non stiamo assolutamente Giocando male Ma se continuate a impegnarmi A fondo Vinceremo Eh Beh Beh gli diciamo così Dai E non c'è molto da dire Più Altre cose Non mi convincono Dai gli diciamo così Si devono impegnare di più Per cercare di vincere Dobbiamo Spuntarla In qualche modo Allora Carletto Pirletto Che è entrato A posto di Arby Ok fuori Rimessa per noi Però Ingoia Per Stefanetto Ancora Ingoia Doveva darla più al centro L'ha data il mano al portiere Beh Bella squadra Si Particolare La Disagium Farm Sono tutti contadini Non pagati Noi giochiamo A Farming Simulator E ci è venuta Questa folla idea Di creare una squadra Così Ci siamo Oddio Ci siamo anche noi Infatti Alcuni nomi Sono I nostri Insomma Io sono la allenatrice Nora Noretta Poi vedi C'è Miticaccio C'è C'è Stefanetto C'è Gioppi Ci sono alcuni di noi Alcuni inventati Tutti disagiati Comunque Non è vero Gustavo Non è disagiato Eh ma devo trovare qualcuno Quando si apre il calciomercato Perché Si è messi male Comunque Purtroppo Purtroppo Non pagati Non siamo bravissimi Comuniti qua Vediamo se riusciamo a trovare il pareggio Ancora Pirletto Cosa fai Cercava di dare la chiappetta Chiappetta Inciampato Ma si può Colpo di chiappetta Un po' Purtroppo di chiappetta Ammonito Magari tutta la squadra Mi sta ammonendo Siamo un po' nervosi oggi Eh però qua Esatto Dopo la serie D C'è l'eccellenza Però già siamo Abbastanza giù così Siamo già eccellenti di nostro Arbitro venduto Secondo albi Si devono allenare di più Ma si allenano Si allenano Anzi Se si allenano di più Si lamentano E si fanno male Ma che cos'è Ma chi Ma te pareva un tiro quello Ma non sto guardando Eh cioè si No L'ha passata Tu cosa pensi Ah ok Allora si l'ha passata Lisa Si Ti dobbiamo mandare affanculo No Il sondale è sempre presente E' possibile utilizzarlo E dedicarlo a Lisa No non si può Lisa scrivi nella chat Perché è anche moderatrice Lei insieme a Giopi Sto scrivendo Sto scrivendo Ma non c'è Sto scrivendo Sto scrivendo Ma così guarda la partita Ora la butto fuori Sto scrivendo Ho scritto Guarda E adesso No prima Pensavo ti mandassero a giocare con i pulcini Ma i pulcini sono più bravi Allora calcio d'angolo per noi Auline E poi sono così tali Dai Porca miseria Recuperiamola No Siamo al sessantacinquesimo Diciamogli qualcosa Che gli devo dire Andate avanti Bisogna pareggiare Bisogna pareggiare Ma non possiamo perdere Dai Caccio d'angolo Dai vediamo Sfruttiamola Dalla bene A chi la dà Ma che fa Ma perché butta via delle palle così Mi ti caccio Per Stefanetto Se sono impidugliati Stefanetto Gustavo la dova Sono impidugliati Pirletto Chiappetta Pirletto Dai Auline Che è successo Forse rigore Che è successo Forse rigore Rigore per noi Eh che culo Chi tira Stefanetto Per favore Ia Stefanetto ha segnato Il primo gol di Stefanetto 2 a 2 Mi ti caccio La mette in mezzo Vai Troppo alta Pirletto Abbassati no Cioè scusa Dai stiamo attaccando Stefanetto Permiti Caccio Che la metta ancora in mezzo Ci arriva Ci arriva Pirletto La mette dentro 3 a 2 Dai che ci servono Sti punti Due gol in meno di 5 minuti Ma GG Dai che devo parlare con la squadra Ingoia Chiappetta Ah attenzione Chiappetta si perde il pallone Lo recupera Non è facile Non è facile Istruzioni Che gli diciamo Incoraggiamoli ancora va Giocate meglio Stiamo andando meglio Come ha sbagliato Rigore Che dici Ha segnato Ah no Ha sbagliato Ce l'hanno annullato Uno Joe Vai Goal L'ha fatto Jack Aspetta Aspetta Perché ce l'hanno annullato Eh non lo so perché No i rigori L'hanno segnato Eh Joe Vabbè mi sto confondendo Francesco Comunque siamo in vantaggio 3 a 2 Oh Filippo Jack ha segnato Che è successo Viene fischiato Stefanetto potrebbe essere in guai seri Se la cava con un avvertimento Allora aspettate però Perché stiamo rischiando Stefanetto la mette in mezzo E' alta Sto pirletto Troppo alta Non ho capito E' alto Stefano E' un pirletto Ingoia Miticaccio In mezzo Ancora Osvalda Panda Osvalda Ormai non sai fare un cross Ma io queste gambe te le taglio E' una cosa incredibile Guarda là cosa dobbiamo subire Non è capace Non è capace a fare un passaggio Buttiamola fuori Non è vero Appena fatto un cross Effettua la sostituzione Aspetta aspetta No non puoi No mi offendo No sei troppo pericolosa Guarda Panda Se perde palla Nei posti sbagliati Smettila E' un pericolo vivente E poi Jack e Crick Chiappetta E dalla bene Cambiamo Ma attuare Denuzzo A posto di Di Papà o Chiappetta Che è stato munito Anche se E' pure nervoso Lasciamo stare E' nervoso Deve uscire Per forza Ma hai chiamato Papà o Chiappetta Attacco Vediamo come va Ha tirato fuori Con il rigore Ma mi è perso gola A me Dopo vado a vedere Com'è che ha tirato fuori Stefanetto Ma non è nero Dalla bene Per Stefanetto Se sono impidugliati Un'altra volta Ma Ma si impiduglia Ma è una meraviglia Eh si Allora Miticaccio Butta in aria La palla Aulin Ah Peccato Ho preso un cartellino Rosso ancora Bel tentativo Di Aulin Di testa Però In mano al portiere Miticaccio Guarda come va Vai miti Crossa Crossa Dai Tirate De noto Jack Gustavo la topa Ci prova Troppi passaggi E poi il tiro Era debole Comunque Ottantanovesimo Quanti minuti ha dato Quattro minuti Di recupero Dai che ci servono Una porca Però la squadra Ha reagito Molto bene Ma che regali Il calcio d'angolo In un momento Come questo Novantesimo Novantesimo Quattro minuti Eh Adesso incoraggio Però Gli regalano Il Pure il calcio D'angolo Dai Togliamo Sta palla Prendiamola A noi Attenzione Denuzzo Difende Meno male Novantadesimo Cacchio C'era un calcio Di punizione Un altro Ma che Dai Manca poco Oh Ha tirato fuori Eh Cosa No no Adesso vado a dire Cosa Moreno Batte Moreno Sempre Stefanetto Recupera il pallone Anticipando tutti Meglio così Poderak Lancia lungo Ma l'arbitro Fischia E' finita 3 a 2 Per la disagio In farm Ce l'abbiamo fatta Fuori casa A prendere 3 punti Ok Siamo saliti Un pochetto Tredicesima posizione Siamo ancora In zona Retrocessione Però Eh Sono finite Le brutte 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 Partite Nel senso Quelle con le squadre Troppo difficili Vediamo se si riesce A fare anche La prossima volta Qualche punticino Non la dovevamo Perdere questa Assolutamente Non abbiamo giocato Benissimo Al primo tempo Non abbiamo giocato Proprio bene Il secondo Verso la fine Meno male La squadra Si è ripresa Dai 12 punti Cerchiamo di salvarci Ancora ci sono Tante partite Comunque da giocare Speriamo di farne Speriamo di farne abbastanza Da tirarci fuori Da questa zona GG Si è in difficoltà Albi Non giocava da un po' In realtà Ora sono due o tre partite Era la terza partita Che giocava E purtroppo si Man mano che entra In partita Poi Fa mezzo tempo Ed esce Perché Giustamente Se giochi Chiamare Devo farlo uscire Per mettere qualcuno Che funzioni un po' Di più Da quella parte Però Vediamo se piano piano Entra in forma partita Giochichiando Buerino Da loro il migliore È stato Mustacciolo Da noi Ingoia Stavolta Nonostante Il Il coso lì Il fallo Che ha fatto Da rigore Si avete ragione Comunque Il rigore Stefanetto L'ha sbagliato Perché Non lo dà Il gol di Jack Di Pirletto E di Ingoia Ma come E si Boh Sembrava di averla vista Dentro Invece no Illusione ottica Sì effetto Sai quando fa Sì 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 Spogliatoio Allora Cosa possiamo dire Sempre appassionati La gente oggi Non ci considerava Neanche Ma voi avete dimostrato Che si sbagliavano Di grosso Bravi tutti Ottimo risultato Bravi bravi Va bene raga Allora ci fermiamo Qua Che sono Vabbè Non è neanche Tardissimo Abbiamo fatto presto Stavolta Anche con la partita Meno male Che abbiamo vinto L'importante È quello Ogni tanto Arriva qualche vittoria Che ci serve Noretta Trova la formula Vincente Diciamo Qua c'è da studiare Ogni volta GG anche a Miti Esatto Un bel debutto Giò Veramente Vedi Miti Caccio Debutta Con il Disagion Farm No ma Veramente Come Terzino Aiutato In un poco Ingoia Trascina Disagion Farm Migliore In campo Eh sì Eh beh Ha fatto anche il gol No ha giocato bene Ha preso nove Anche lui Va C'è qualche miglioramento Ogni tanto Di qualcuno E se non continua A giocare bene Bane Ah vabbè Per adesso Ci teniamo Questi giocatori Perché la società Non ha manco un euro No Infatti il tuo stipendio Com'è? ND Non definito Non disponibile Non disponibile Non definito Il mio contratto Si rinnova Di mese in mese Quindi se non si fa bene Io rischio anche Di essere licenziata L'allenatore In seconda È l'unico pagato Non so perché Eh perché amici Tu è strano I giocatori Non sono pagati Abbiamo un giocatore In prestito dal Palermo Che è Gustavo Latopa Che in realtà Non si chiama così Ma noi abbiamo Eh no Non si chiama Gustavo Latopa No no Si chiama così Fidati Ingoia si chiama Ingoia Si chiama così Non ho cambiato nulla Il resto Si capisce che Eh L'abbiamo creato noi Ma ingoia no Vabbè raga Dai mi fermo qua Un'abbiamo creato di